ciao da luci oggi finalmente riesco a registrare il mio vestitazza che sarà in completo col nostro sottotazza natalizio ovviamente come saprete da fungo label dove io acquisto questi legni decorati per realizzare i miei sotto tazza o sotto bicchiere non c'è solo questa fantasia potrete trovarne anche altre e se non vorrete la fantasia natalizia perché ha un regalo che volete possa essere usato tutto l'anno ci sono tante altre fantasie che potete scegliere io in questo caso sto facendo la mia linea christmas e quindi ho questo bellissimo decorato in modo natalizio andrò ad utilizzare oggi lo stesso filato perché voglio fare un completo ma ci tengo a specificare che non dovrete per forza usare un cordino per fare il vostro sottotazza e il vostro vestitazza potrà anche essere usato un qualsiasi filato che voi desideriate anzi se avete degli avanzi in casa secondo me è un ottimo suota scaffali come lo chiamo io perché potrete tranquillamente eliminare tutti i p le piccole quantità di filato che avete come rimasuglio in casa quindi l'unico l'unica cosa che vi dico è di non usare filati pelosi perché qualora andrete a fare il vestitazza la peluria della lana potrebbe darvi fastidio quindi io opterei per un filato rasato ora nel caso vi faccio vedere io ho qui questa che calico di lana gatto ma la useremo in seguito non la usiamo adesso vedete questa è una bella lana rasata che non ha una grande pelosità di conseguenza questa potrebbe essere una lana adatta se già io ho in casa una lana come questa che è pelosissima assolutamente no perché qualora voi andiate a appoggiare le labbra sul bordo della tazza pur rimanendo un centimetro sotto al bordo per evitare di appoggiare la bocca sul filato la pelosità potrebbe comunque finirvi in bocca e quindi dare fastidio quindi io per ora mi limito ad usare il cordino utilizzato nello scorso tutorial quindi questo e procediamo in questo modo la tazza la tazza io ho una tazza standard ora ve la tengo girata col manico da questo lato perché da questo lato la mia è decorata non avevo una tazza completamente bianca ma voi al supermercato potrete tranquillamente trovarla o colorata o completamente bianca di questa forma ecco l'importante è che sia di questa forma perché io ne ho un'altra di tazza che è questa ma questa ci richiede degli aumenti che magari vedremo in seguito io oggi vorrei farvi vedere ecco questa perché è più semplice da realizzare e anche più semplice da reperire perché è proprio una tazza standard ora io non mi do tutte le misure del fondo perché vi assicuro che le tazze standard hanno tutte lo stesso fondo che secondo me si aggira attorno agli 8 cm appoggiandola su questo fondo che è da 10 direi che si più o meno è di 8 cm di diametro a voi le misure che interessano sono il diametro non l'altezza della tazza ma la il posizionamento dell'impugnatura perché dovremo andare a lavorare in giri da andata e ritorno tenendo presente di non sovrastare l'impugnatura della tazza ma la cosa semplice è provare la tazza sulla lavorazione man mano che procedete questa potrebbe essere anche una bellissima idea regalo da sola o in completo col vesti tazza con magari al suo interno dei cioccolatini e incartato con una bella organza con un bel fiocco sopra e fa una scena incredibile immaginate all'interno della confezione messo così è veramente un regalo graziosissimo quindi non solo per voi ma anche da regalare a natale procediamo al tutorial iniziamo con il nostro anellino magico quindi facciamo passare il filo attorno alle dita incrociamo passiamo sotto al primo e sopra al secondo in questo modo tiriamo fuori il cappietto e caricando il filo facciamo una catenella io per comodità perché è più facile stringere poi vado a sfilare la colina dal centro dell'anellino quindi in questo modo mi trovo meglio vado a fare due catenelle una e due e vado a lavorare 10 maglie alte all'interno di questo cerchio fate le 10 maglie alte stringo bene la codina in questo modo e non vado a fissarmi sulle due catenelle ma sulla prima maglia alta quindi ho salto le due catenelle d'inizio giro e vado ad agganciarmi con una maglia bassissima sotto la prima catenella della maglia alta quindi sotto la prima maglia alta e cosa faccio mi vado a fissare anche la codina quindi la porto su la faccio passare sopra l'uncinetto oppure potete anche entrarci subito estragola maglia e passo direttamente con una maglia bassissima fuori dalla ultima maglia lavorata così abbiamo la chiusura giro ora ci alziamo sempre con due catenelle e le due catenelle iniziali non vengono mai conteggiate perché non sono una maglia ci servono soltanto per alzarci e creare la prima maglia quindi non conteremo mai le prime due catenelle come maglia ed infatti non andiamo a lavorare sopra questa ma andiamo a lavorare sopra la prima vedete questa maglia alta quindi carichiamo il filo e dentro in questa maglia andiamo a fare l'aumento una e due maglie alte lavoreremo tutto un giro di aumenti quindi due maglie alte sopra ogni maglia alta sottostante se nel primo giro avevamo 10 maglie alte nel secondo giro ne dobbiamo avere 20 al termine del giro vi sembrerà di saltare una maglia non la state saltando quindi questa catenella che vedete qua non dovete lavorarla dovete andare direttamente sulla prima maglia alta a chiudere il giro quindi sotto la catenella della prima maglia alta e non nelle due catenelle mi raccomando andiamo a chiudere il giro ecco qua all'inizio tirerà un pochino ma ecco qua la chiusura del giro stringete bene così che non si veda tanto lo spazietto il terzo giro sarà la ripetizione del secondo quindi mi alzo con le due catenelle entro nella maglia questa qui quindi non questa ma questa e vado a fare l'aumento una e due e faccio gli aumenti come nel secondo giro quindi tutte le maglie con aumento al termine nel giro ci ritroveremo con 40 maglie alte al termine del giro io sono arrivata 38 maglie alte le due rimanenti le andiamo a mettere esattamente dove escono le due catenelle del inizio giro quindi proprio in questo forellino la particolarità di questo tipo di chiusura è proprio questa che un giro lo lavorerete saltando l'ultima e il giro successivo invece la lavorerete anche andiamo a chiuderci sempre con una maglia bassissima sulla prima maglia di inizio giro in questo modo come potete vedere voi non avete neanche la riga di inizio e fine giro è anche vero che se vi ritrovate con due maglie in più o in meno avendo una lavorazione interamente a maglia alta non sarà un problema però per correttezza se doveste usare questo metodo in futuro sappiate che questo è veramente il metodo ideale per non far vedere inizio e fine giro ora andiamo a fare tutto un giro di maglia bassa in costa retro quindi ci alziamo con una catenella e lavoriamo tutte le maglie ricordate devono essere 40 in costa retro a maglia bassa perché adesso iniziamo ad alzarci io non ho approvato il vestitazza sulla tazza vi consiglio se è la prima tazza che fate di provarla nel senso questo è quello che dovrete avere all'esterno della tazza dovrà rimanere soltanto diciamo la catenella del giro di maglia alta deve essere abbastanza preciso vedete se io la posiziono rimane fuori solo la catenella altrimenti rischiate che sia troppo largo e vi faccia comunque una brutta forma una volta finita la vostra il vostro rivestimento della tazza quindi adesso io procedo con fare tutto un giro di maglia bassa in costa e vado a chiudere il giro unendomi dall'altro lato eccoci arrivati a fine giro quindi vado a chiudermi con una maglia bassissima sulla prima maglia lavorata in questo modo riproviamo per essere sicuri che il nostro vestitazza sia giusto vedete che sale il bordino e cinge bene la nostra tazza ve lo faccio vedere in questo modo vedete il bordino sta salendo non stringerà immediatamente perché di solito stringe nel giro successivo quindi anche se vi sembra un po largo se non è eccessivamente largo è giusto state tranquille è giusto ora iniziamo a lavorare in giri di andata e ritorno quindi adesso io mi alzo con una catenella avvolto il mio lavoro e vado a lavorare normalmente le mie maglie basse in giri di andata e ritorno quindi me le vado a lavorare tutte prendendole normalmente quindi non più in costa ma prendendo normalmente la maglia bassa e mi mi fermerò saltando le ultime tre maglie perché dobbiamo lasciare lo spazio anche per la larghezza della nostra impugnatura voi vedete quanto è larga la vostra io ho calcolato che tre maglie saltate sono più che sufficienti se voi avete un manico più stretto ne potete saltare anche due tenete conto che poi ci sarà il giro di rifinitura quindi lasciatelo un po più largo per evita a evitare che la lavorazione poi si accavalli sull'impugnatura della vostra tappa sono arrivata al termine del giro vedete io lascio queste tre maglie libere perché poi mi alzerò comunque un pezzettino con la rifinitura faccio una catenella avvolto il lavoro e ricomincio a lavorare nello stesso modo quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante questo lo faccio fino ad arrivare alla misura che adesso vi indicherò come vedete procede bene vedete io lo faccio vedere di qualche più bello perché senza disegno si nota meno vedete che cinge bene la tazza senza né stringere né essere troppo larga vuol dire che la misura è giusta vedete che io ho lasciato lo spazio che abbastanza largo attorno all'impugnatura perché poi quando andremo a rifinire arriveremo giusti all'impugnatura quindi rimanete un pochino sotto me lo faccio vedere così ecco un pochino sotto all'impugnatura perché poi quando faremo il giro di maglia bassa di rifinitura andrà a stringere quindi avvolgere bene ora io andrò avanti così nella lavorazione fino ad arrivare e ve lo dico in centimetri più o meno eccoci qua fino ad arrivare a più o meno due centimetri sotto vedete qua c'è l'attaccatura dell'impugnatura io arrivo due centimetri sotto perché poi dovremo fare dei giri con il colore diverso quindi rimaniamo due centimetri sotto alla impugnatura non vi do i centimetri esatti anche se potrei perché posso tranquillamente fare così in totale sarebbero sette centimetri perché la vostra tazza potrebbe essere più alta o più bassa quindi è inutile che io vi dia i centimetri esatti della tazza ma vi do esattamente quanto dovete rimanere sotto alla impugnatura vado a fare i centimetri che mi mancano e ci vediamo per il cambio colore arrivata l'altezza desiderata lavoro l'ultima maglia in questo modo faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il mio filo il colore lo cambio dal dritto del lavoro quindi se avete comunque finito sul dritto staccherete il filo e vi ri aggancerete sul dritto del lavoro perché sul rovescio si vede troppo il cambio colore mi aggancio da questo lato quindi non dove ho finito ma dall'altro lato vado sotto la prima catenella mi aggancio in questo modo ecco qua la prima io prendo sempre dentro anche la codina in modo da fissarla un po meglio ovviamente se prendete anche la codina magari vi è difficile uscire poi la vado a nascondere ovviamente nella lavorazione quindi la prima maglia l'ho fatta faccio la seconda faccio la terza e la quarta la prendo due giri più sotto quindi sarebbe questa non prendo non mi infilo qui non mi infilo qui ma mi infilo qui quindi salto questa e salto questa vado qui sotto quindi perpendicolarmente sotto alla maglia poi voi potreste anche agganciarvi più sotto io vi dico dove mi sono agganciata io quindi salto questa salto questa mi infilo qui faccio una maglia allungata ecco qua la porto su bene e concludo la maglia bassa ovviamente saltate la catenella nel caso fuoriesca quindi in quella successiva una due tre questo filo si apre tutto quindi non lavoro qui non lavoro qui entro allora me lo faccio vedere più da vicino non lavoro qui non in questo foro ma in quello sotto alzo la maglia se necessaria esco e la raddrizzo in modo che la vi rimanga bella pulita e chiudo la lavorazione ora l'ho preso sotto un po vado a tagliare la codina perché mi dà veramente fastidio ecco qui nuovamente lavoro una maglia la seconda la terza e quindi ripeto non lavoro qui non lavoro qui ma lavoro qui porto su che ecco qua vado avanti così fino alla fine del giro non vi preoccupate se il giro finisce 3 maglie prima 2 maglie dopo non vi preoccupate potreste addirittura concludere o comunque fare tutto il giro senza rispettare un ordine ben preciso se vi piace una cosa più disordinata potrete tranquillamente farlo quindi non c'è una regola del tipo ho iniziato con tre maglie basse devo finire per forza con tre maglie basse come finite finite diciamo che sarebbe l'unica regola sarebbe quella di non finire con la maglia allungata perché potrebbe poi comunque nascondersi con la rifinitura quindi non servirebbe assolutamente a nulla però proseguiamo in questo modo fino al termine del giro ecco quello che avremo al termine del giro vedete non ho iniziato come ho finito qui per esempio avevo solo una maglia ma non è importante questo quanto l'effetto visivo di questo bellissimo vestitazza ora vado a fare altri due giri di maglia bassa però uno lo faremo normalmente l'altro vi farò vedere la rifinitura ha finto punto gambero arrivati al termine di questo secondo giro a semplice maglia bassa faccio una catenella è volto il lavoro ora andiamo a fare il giro di finto punto gambero che è veramente semplicissimo allora entro nella prima maglia porto fuori il filo e invece di concludere subito la maglia bassa volto il filo in questo modo attorno al uncinetto quindi vedete si crea questa barretta carico il filo concludo la maglia bassa ve lo faccio rivedere entro prendo il filo come per fare una maglia bassa ma prima di concluderla faccio questa cosa quindi passo il filo attorno alle due catenelle e poi concludo la maglia bassa di nuovo maglia bassa passo attorno alle due catenelle sull'uncinetto concludo la maglia bassa come potete vedere si sta creando tutto un cordolino che è molto molto simile al punto gambero però più semplice da fare e soprattutto non si accavallano le maglie l'unico accorgimento è tenere ecco l'impugnatura a penna perché con quella coltello dovete staccare ogni volta la mano per avvolgere quindi ve lo faccio vedere anche a coltello in questo modo vedete dovete togliere la mano cambiare l'impugnatura e passare il filo attorno quindi vi consiglio di avere già l'impugnatura a coltello come potete vedere è veramente velocissimo e l'effetto è veramente grazioso vedete proprio ve lo faccio vedere anche in velocità per farvi notare che comunque non richiede molto tempo farlo ora io vado avanti fino al termine della riga perché poi vi faccio vedere ovviamente come proseguiamo da questo lato però guardate già che bello che è guardate la rifinitura mi raccomando fatela sempre sul dritto del lavoro arrivata al termine del giro faccio una catenella rientro nella stessa maglia sottostante in questo modo e procedo facendo la rifinitura lateralmente quindi questa la lavoro nello stesso modo poi entro in quella sotto così vado avanti come se non fosse il finto punto gambero quindi la rifinitura normale maglia per maglia lavoriamo lateralmente ogni maglia bassa in questo modo se volete vi è difficoltoso le rifiniture potete farle a semplice maglia bassa io vi sto facendo vedere questo punto perché secondo me è molto grazioso e rifinisce molto bene poi voi siete liberissimi di decidere che cosa fare quindi una volta lavorate le tre maglie vi è sicuro che facile all'inquadratura non agevola però è facilissimo vedete una volta finite le tre maglie ricominciate a lavorare lateralmente alle maglie per risalire da quest'altro lato quando risalite vi faccio vedere come chiudere ma si chiude normalmente con ago e una maglia passata qui dentro e avete finito il vostro vestitazza però dobbiamo mettere il bottoncino quindi qui facciamo una catenegola dovete semplicemente prendere il bottone che avete deciso di utilizzare in questo caso io ho questo bottoncino a faccina mi piaceva perché sembrava quasi un biscottino e quindi ho deciso di usare questo lo vado a posizionare diciamo più o meno qui e potete cucirlo prima se vi agevola io non lo cucirò prima vado a fare una catenella che chiuda la tazza e riesca ad avvolgere l'intero bottone perché se non è abbastanza lunga o è troppo lunga poi o balla o non riuscite poi a chiuderla quindi vado a fare io penso che una decina di catenelle vadano bene quindi una due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci appoggio il bottone in questo modo vedo se riesco a farlo entrare mi sembra di sì non ne sono sicurissima ne aggiungo due non è un problema tanto le catenelle si possono fare tranquillamente vado ad agganciarmi esattamente alla base con una maglia bassissima alla base della maglia già lavorata in questo modo e proseguo la mia lavorazione normalmente faccio l'ultima tiro il filo taglio e con o l'uncinetto o lago tira fettuccia vado a nascondere il filo unendolo quindi entro qui prima lo porto avanti poi volto il lavoro entro qui lo riporto sotto facendo una catenellina in modo da fermarlo e io qui l'ho aperto quindi bisogna rifare lo porto dentro e faccio una catenella per fermarlo con lago tira fettuccia andrò a nascondere il tutto io per ora lo metto dentro e vado a provare il mio vestitazza sulla mia tazza come vedete è perfetto non mi resta che cucire il bottoncino da questo lato vedete che rimane bene lo spazio per l'impugnatura e rimane molto bello rimane sotto non salite troppo perché quando andate a bere è fastidioso toccare con le labbra il filato quindi rimanete sempre un centimetro sotto ecco qua mie lucine il mio vestitazza finito è veramente grazioso vero veramente facile da fare nonostante la spiegazione sia stata lunga ma perché io mi dilungo sempre per agevolare anche le amiche principianti e quindi spiego tutto per filo e per segno certamente per le più esperte alle prime indicazioni avrete già capito che linea seguire quindi potreste andare avanti da sole non guardate qui il mio vestitazza con sotto tazza è finito io vi saluto vi do appuntamento al prossimo tutorial vi invito ad andare a vedere lo shop di fungo label per i sotto tazza vi lascio qui sopra nella il tutorial appunto correlato quindi del sotto tazza così che voi possiate fare il vostro completo io mi fermo qui vi mando un bacio grande ciao da luci al prossimo video tutorial ciao